buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale innanzitutto mi sopporterete per la maggior parte del video credo perché non ho fatto video perché non sono stato bene ragazzi se non stato senza voce tuttora non sono al massimo e ho tosse continua però a sto giro volevo farlo un video post partita dopo questo pareggio tra Lille e Juventus possiamo dire immeritato scusate ragazzi se volete ve lo dico ogni volta scusate comunque prima di iniziare a parlare di questa partita vi chiedo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare ancora una volta questo canale e niente speriamo che oltre questo non accade nulla perché io vorrei fare video però non ce la faccio ragazzi non ce la faccio neanche a parlare in breve vi parlo un po di questa partita per come l'ho vista io e secondo me siamo stati un po cioè non sfortunati non siamo stati bravi ovviamente a subire quel gol poi c'è sta una grandissima giocata di Zegrova che talento impressionante ecco perché Giuntoli era sulle sue tracce però il prezzo del cartellino penso sia abbastanza alto io avrei preferito tutta la vita lui a Nico Gonzalez onestamente credo che il prezzo più o meno oscillasse su quella cifra però Zegrova e Nico Gonzalez a parte offre una grandissima palla per David che porta in vantaggio il Lille sappiamo benissimo che oltre alla protezza di Zegrova sbaglia in marcatura cabal che oggi non fa una bruttissima partita ma non era facile obiettivamente tenere Zegrova per quello che si è visto però nonostante ciò quindi per me non è sulla sufficienza se proprio forse è l'unico giocatore che oggi è sotto è sotto la sufficienza perché per il resto comunque la squadra fa una bella partita perché dopo il gol subito reagiamo cerchiamo di creare dei pericoli nella difesa del Lille vengono annullati due gol a Copp Maners per fuorigioco giusto ovviamente poi però io credo che a questa Juventus manchi tanto l'ultimo passaggio per arrivare alla conclusione non dico al gol almeno la conclusione perché comunque soffriamo cioè non riusciamo abbiamo difficoltà a mandare in porta i giocatori non dico liberi ma quantomeno che riescono almeno a prendere la palla in maniera discreta ecco poi c'è un grande tiro nel primo tempo sempre di Dusan Blauic su una bella azione in cui il portiere dell'Ele fa un miracolo però a parte queste azioni io non ricordo tantissime che poi hanno detto anche il portiere dell'Ele sta facendo i miracoli c'è io non ricordo tutte queste queste parate del portiere c'è poi nel secondo tempo c'è stato il tiro di Turam sì ma era centrale c'è è arrivato questo rigore poi grandissima azione di Gambiaso che la dà la palla a Consesavo bravissimo Consesavo poi a smaccarsi e a procurarsi il calcio di rigore trasformato Dusan Blauic che oggi nel complesso non ha fatto una brutta partita ha toccato più palloni ne ha sbagliati pochi ha fatto gol comunque ragazzi non so che dirvi a rigore ha trasformato rigore però nel complesso potevamo fare di più sotto questo aspetto qua cioè non riusciamo la ha detto anche Tiago Motta poi a fine partita negli ultimi 20 metri sbagliamo tanto non riusciamo a creare lo spazio giusto per andare alla conclusione perché sì Cop Miners comunque anche nel secondo tempo ha varie opportunità per andare non dico a far gol però diciamo di avvicinarsi almeno alla porta non è ancora al meglio lo sappiamo sta iniziando ad entrare di nuovo nei ritmi di gioco però a me cioè si vede che l'ha detto anche Tiago Motta la post partita nell'ultima partita in campionato che ora sinceramente non sto neanche ricordando contro chi è un vuoto di memoria un vuoto di memoria ragazzi un vuoto di memoria ma mi uscirà perché mi uscirà niente non mi viene comunque nell'ultima partita ha detto che voleva togliere Cop Miners ma comunque è troppo è troppo importante per lui e non è facile toglierlo ecco però si vede perché lui nonostante in molte circostanze perda palla anche lì davanti si diretta sempre a tornare indietro ad incorrere gli avversari e cerca di recuperare palloni oggi ne ha recuperato un bel po' poi durante tutta la partita non so se voi vedete che incida tanto la squadra a salire a pressare a stare compatti c'è questa cosa di Cop Miners è molto importante si vede che cerca di essere diciamo uno che trascina la squadra ecco per il resto aggiungo una una cosa a questa partita a me sta piacendo si sta tornando al passato nel senso che Tiago Motta era partito all'inizio della stagione con questi due a centrocampo e a me Turam e Locatelli per me oggi fanno una grandissima partita come l'hanno fatta nell'ultima di campionato che continuano a ricordare contro che abbiamo giocato incredibile ragazzi cioè l'ho vista e non è che non l'ho vista a Udinese no stronzata no no Udinese Udinese forse Udinese e fanno una grande partita a centrocampo e quindi secondo me secondo il mio punto di visto anche se dispiace per Fagiori dispiace per Douglas Lewis e dispiace per McKennie che comunque sta facendo anche se sta subentrando però secondo me deve continuare così per dare un po' di stabilità e di compattezza anche al centrocampo perché è giusto che se stiano giocando bene questi tre devono continuare questi tre poi ok ci sta in riposo però poi dopo questa partita contro il Torino se non sbaglio c'è la sosta quindi tra l'altro convocato in nazionale Nico Gonzalez è rotto da un mese praticamente voglio vedere se alla fine ci va col Torino ci dovrebbe essere speriamo comunque non sono tanto contento per quest'altro pareggio dopo la sconfitta casalinga contro Stoccarda perché con queste due partite potevamo veramente mettere un grande mattone sulla qualificazione alla prossima fase ma così non è dobbiamo continuare a sudarcela e ci vogliono dei cambi lì in attacco anzi ci vuole un cambio per Dusan Blavic lì in attacco perché quando è stato sostituito ecco secondo me Tiago Motta oggi ha sbagliato quei due cambi là per me ha sbagliato questa volta ha sbagliato a togliere Dusan Blavic e Kebren Turan perché stanno facendo una grande partita aspettiamo Milik vediamo quando cacchio ritornerà e niente ragazzi aspettiamo e vediamo cosa accadrà in questo derby dell'amore speriamo in una vittoria quindi testa la serie A peccata per questa non vittoria per quest'altro pareggio però dobbiamo essere più più c più vogliosi di nell'ultimo passaggio appunto l'ha detto Tiago Motta dobbiamo sbagliare meno e essere più concentrati e non avere l'euforia di fare chissà che poi alla fine non riusciamo a quagliare quindi ragazzi lasciate like e iscrivetevi al canale fino alla fine forza Juve testa alla prossima Grazie a tutti